Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Vedremo come si stanno facendo i tamponi nella cittadella della salute di San Rocco, l'ex ospedale in corso Giovecca, c'è il drive-thru, ovvero i tamponi eseguiti in auto e c'è anche l'esercito. Vedremo a breve le immagini e poi vaccinazioni anti-influenzali, stanno arrivando nuove scorte, sentiremo quando e dovremo fare anche un aggiornamento dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Ma prima parliamo sempre di emergenza coronavirus, ma dell'impatto che questa sta avendo sulla nostra vita nelle ultime ore la regione Emilia-Romagna è al centro delle attenzioni. Gli indicatori, infatti, suggerirebbero un peggioramento costante della situazione ed è di ieri la richiesta dell'Istituto Superiore di Sanità di passare l'Emilia-Romagna a zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta valutando i dati ed eventuali interventi per quel che riguarda la situazione della campagna, finora in zona gialla, ma anche del Veneto, del Friuli, Venezia-Giulia e dell'Emilia-Romagna, in queste regioni potrebbero vedere crescere i propri parametri e rischiano quindi ulteriori restrizioni. Ma al momento non c'è nulla di ufficiale sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio presentato a Roma. Secondo il professor Brusaferro sarebbero necessarie misure più restrittive, ma l'Emilia-Romagna per evitare questo avanzamento nell'area di rischio arancione si starebbe preparando a una stretta per evitare appunto questo declassamento tra le ipotesi limite agli spostamenti ma soprattutto agli assembramenti in luoghi pubblici e in centri storici come visti nell'ultimo fine settimana. Già oggi potrebbe arrivare la firma del presidente Bonaccini su una nuova ordinanza in vigore entro venerdì. Nel Mirino in ogni modo ci sarebbero appunto piazze, centri storici, luoghi pubblici particolarmente frequentati e anche parchi commerciali rimasti aperti nell'ultimo fine settimana nonostante i divieti imposti dal DPCM del 3 novembre scorso per parchi commerciali. Intendiamo aree vaste con negozi che saranno però definiti appunto in vista di una nuova ordinanza che potrebbe arrivare nelle prossime ore ma ovviamente noi vi terremo aggiornati solo quando ci saranno delle ufficialità che appunto cambierebbero un po' la situazione. Ma a fianco di questa emergenza c'è anche una ricerca di sostegno economico. Il decreto Ristori è stato emesso, il primo decreto di questo ha parlato il prefetto Campanaro in mattinata ieri in prefettura con Giuseppe Rosso che è il neodirettore provinciale dell'Agenzia delle Entrate che è stato accompagnato dalla delettrice uscente Maria Grazia Previtera che è stata destinata ad altro incarico regionale. Allora il prefetto ha ricordato la recente sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate e le istituzioni del territorio del protocollo d'intesa sulle misure di sostegno alla liquidità per agevolare l'attuazione delle misure governative di sostegno a famiglie e imprese. Il Campanaro e Rosso si sono quindi soffermati sulle ultime novità introdotte dal decreto Ristori Bis a sostegno delle attività economiche interessate dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia e anche qui vedremo quali effetti avrà questo decreto Ristori Bis. Imprese ferraresi che continuano ad attraversare un periodo di forte difficoltà in merito all'emergenza Covid. Vi sono tuttavia nuove opportunità anticipate dal segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara Mauro Gianattasio. Sentiamole. Siamo contenti perché nelle prossime ore anche grazie all'importante contributo dei comuni a cominciare dalla città capoluogo finanzieremo 349 imprese ferraresi, un contributo medio di 6 mila euro a fondo perduto, imprese che hanno scelto non solo di ripartire in sicurezza ma di ripartire fino in fondo sul mercato e quindi imprenditori che hanno generato oltre 3 milioni di euro di investimenti. Credo che in un periodo così particolare questo sia un bellissimo segno. Siamo anche contenti perché per la prima volta c'è un segno più nel saldo tra imprese nate ed imprese cessate, mi riferisco al terzo timestre che segna 111 imprese in più, evidentemente però ci sono tantissimi segnali che destano preoccupazione e proprio in questo momento gli uffici mi hanno consegnato un report freschissimo che ahimè però è caldo nei contenuti. Da qui al 2020 Ferrara registrerà una riduzione del valore aggiunto del 9,7%, una riduzione delle esportazioni del 16,3%, un aumento della risoccupazione dell'8,7% e una perdia rifatturato nelle imprese di 1.800 milioni di euro, più o meno immaginiamo 58 mila euro imprese in meno. Così come oltre il 35% delle imprese ferraresi ci dice che necessita necessariamente di credito aggiuntivo per evitare la chiusura della propria attività, tutto ciò che adesso sentiamo, ascoltiamo e quindi la possibilità che la Regione Emilia Romagna possa abbandonare il colore giallo e abbracciare il colore arancione destra ancora più preoccupazioni. Quello che noi in Camera di Commercio ogni giorno vediamo è che ci sono imprenditori che proprio di morire non ne vogliono sentir parlare. È evidente però che il coraggio e la determinazione delle imprese non basta. Noi dobbiamo assolutamente dare dei segnali e dobbiamo aiutare le imprese non indebitandole, ma dobbiamo aiutarle in questo momento con delle misure a fondo perduto. Il Governo su alcuni punti lo sta facendo, ma evidentemente però la platea è molto più ampia. Quindi come avete sentito nell'aria questo rischio di passare in zona arancione, tra i parametri c'è quello del numero dei tamponi effettuati ogni giorno sul territorio, ma da ieri mattina a Ferrara. Nella cittadella San Rocco c'è il nuovo drive-thru allestito dal personale del reggimento genio ferrovieri dell'esercito per tentare di incrementare il numero di tamponi effettuati, quindi fare un tracciamento più approfondito, ma vediamo e sentiamo che cosa viene fatto a pochi passi dall'ex ospedale. Aumenta il numero dei tamponi eseguiti a Ferrara grazie all'affiancamento dell'esercito italiano da mesi all'ex ospedale di Ferrara. In corso Giovecca, nella cittadella San Rocco e anche a Cento e a Comacchio, l'azienda USL esegue centinaia di tamponi giornalieri in auto e drive-thru. Da martedì solo al mattino, tutti i giorni, a parte la domenica, nelle strutture del reggimento genio ferrovieri, i sanitari effettueranno una media di 200 tamponi giornalieri poi processati a Cona. Qui si potranno recari i ferroresi che devono fare il tampone indirizzati dai medici di medicina generale e dal dipartimento di sanità pubblica. Una prima tenzostruttura vedrà personale dell'esercito che contribuirà a ulteriormente integrare e potenziare quelle che sono il tracciamento che già stiamo svolgendo. Noi facciamo in media, qui su Ferrara, grazie al nostro personale, circa 400 tamponi giornalieri, questo mediamente, ma chiaramente sapete che abbiamo anche un drive-thru su 100, uno su Comacchio e un quarto mobile per una media giornaliera che ancora non arriva, parlo intorno ai mille tamponi, parlo di media giornaliera, ci sono delle punte chiaramente maggiori. Avere affiancato una tenzostruttura con personale medico dell'esercito ci permette di aumentare quella che è la possibilità di tracciamento e quindi è chiaramente fondamentale perché il tracciamento con l'incremento della pandemia e della curva epidemiologica deve essere ulteriormente, diciamo così, incrementato perché aumentano il numero di contatti che dobbiamo evidentemente della popolazione tamponare. Ma l'elemento ulteriormente molto utile è stato che ci hanno permesso di realizzare una terza, avete visto una seconda tenzostruttura dove c'è scritto anche tamponi rapidi perché parlando con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che ringrazio per la disponibilità che stanno dando per le vaccinazioni e che daranno anche per i tamponi rapidi, è emerso che ci possono essere situazioni dove non c'è la disponibilità di ambulatori pertinenti. Una seconda tenzostruttura è dedicata e darà la possibilità al personale, ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta di poter ruotare qui per eseguire i tamponi rapidi sul livello organizzativo di dettaglio che ancora dobbiamo, diciamo così, realizzare e studiare insieme. Quindi è chiaro che questo comporterà un incremento importante della tracciabilità all'interno di quella che è la nostra provincia, questo assolutamente. All'inaugurazione era presente, oltre al colonnello Emilio Giglio e l'assessore comunale Cristina Coletti, anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, che ricorda l'aiuto che l'esercito detta la sua bondeno quando era sindaco durante il sisma del 2012. Secondo il primo cittadino sono stati 49 mila i tamponi eseguiti nel Ferrarese dal 1 settembre all'8 novembre, ma qual è la situazione nel Ferrarese in questa fase di emergenza Covid? Sicuramente una situazione complessa e da attenzionare che è quello che stiamo facendo, lo sforzo di tracciare, di individuare, di isolare, di gestire il più possibile i pazienti, anche sintomatici, parliamo di una sintomatologia chiaramente non complessa, ma presso il proprio domicilio tramite alberghi sanitari o strutture territoriali impedisce l'affollamento di quelli che sono gli ospedali e questo è dovuto a uno spiegamento di forze che abbiamo messo in campo per consentire tutto questo. La situazione è sicuramente complessa come in tutto il Paese e quindi non ci deve far abbassare la guardia. Stiamo attendendo i nuovi dati dell'emergenza coronavirus sul territorio ferrarese, sentiamo allora quali sono gli ultimi che abbiamo e come si sta muovendo questa epidemia e soprattutto qual è la situazione negli ospedali estensi. Dopo giorni di tregua purtroppo all'ospedale di Cona si sono registrati due decessi per probabili complicazioni apportate da coronavirus. Comunicati dalla direzione medica del Sant'Anna, entrambe le persone avevano patologie pregresse concomitanti. Una donna ferrarese di 95 anni proveniente dalla residenza Paradiso di Ferrara era ricoverata dal 21 ottobre a Cona. Un ferrarese di 82 anni è invece deceduto dopo quattro giorni di ricovero al Sant'Anna. A questi si aggiungono altri 19 decessi in Emilia Romagna nelle ultime ore. Focus ora sugli ospedali. In questa fase dell'emergenza covid, un ricovero in terapia intensiva a Cona, si tratta di un comacchiese e 11 ricoveri nei reparti covid. Reparto di terapia intensiva al Sant'Anna pieno, 15 posti letto occupati su 15 e atteso un ampliamento come previsto dal piano sanitario. 12 quindi le persone entrate a Cona nelle ultime ore, ma nel frattempo sono state 8 quelle uscite perché dimesse o guarite, tra cui un 88enne. In totale al Sant'Anna sono 95 i posti letto occupati su 105, a 100 e al delta sono 87 i posti occupati su 96 disponibili. Capitolo nuovi casi nel territorio ferrarese. A causa di un problema informatico lunedì non sono stati comunicati nuovi positivi, quindi il numero di martedì più 229, di cui solo 21 con sintomi, tiene conto anche delle nuove positività riscontrate sia martedì che lunedì. Lunedì comunque erano 100 nuovi positivi, martedì 119. Il numero dei nuovi positivi registrati tra un giorno e l'altro, quindi se si tiene conto anche dei tamponi effettuati, è in linea con gli ultimi giorni. In Emilia Romagna intanto cale il rapporto positivi tamponi. Su oltre 22.500 tamponi, 2430 sono i nuovi positivi. Tradotto quasi 11 tamponi su 100, oggi sono risultati positivi in regione, ieri erano 16 su 100. Nel frattempo la regione Emilia Romagna sta valutando di assumere con un'ordinanza, probabilmente uscirà mercoledì, nuove misure per evitare gli assembramenti. Lo ha annunciato il presidente della regione, Stefano Bonaccini, che dovrebbe incontrare in videoconferenza i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti di provincia. Stiamo valutando, ha spiegato Bonaccini, di assumere nuove misure per evitare gli assembramenti che si continuano a vedere nelle città e non solo, basti pensare all'ultimo fine settimana, ha aggiunto il presidente della regione. Un coronavirus che sta circolando in concomitanza con l'influenza stagionale, circoleranno insieme, per questo la vaccinazione quest'anno antinfluenzale è molto importante, ma continua a essere introvabile. Nelle farmacie il vaccino antinfluenzale per fare il punto della situazione e per capire anche come procedono i test sierologici nella nostra città. Abbiamo fatto il punto con Luca Cimarelli, che è presidente di Ferrara Holding Servizi, di cui fanno parte le farmacie comunali. Sentiamo Cimarelli. Ad oggi al sistema farmacie non è garantito alcuna dose di vaccino. I nostri canali e gli ingrossi sono stati interpellati più volte, ma affinché non si smuove qualcosa a livello regionale non siamo in grado di garantire a nessuno una dose. Purtroppo non è una volontà nostra, non è una volontà dei nostri fornitori. Si è scelta la via di centralizzare il numero maggiore di vaccini alle regioni che li stanno distribuendo ai medici di base. Nonostante questo alcuni provvigionamenti stanno finendo. C'è stata data una possibile finestra dopo il 15 di novembre e noi ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte appena li riceveremo. Per quello che riguarda i sierologici invece sta continuando anche all'interno delle farmacie e del gruppo di AFM la possibilità di effettuare test. È attivo da ieri un pop-up sul sito di AFM, www.afm.it dove ci si può prenotare automaticamente scegliendo il giorno e l'ora che si preferisce per l'effettuazione del test che viene svolto il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì in Viale Crasnodar dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera, il martedì dalle 3 e mezza alle 7 e mezza a Portamare Servizi e il sabato mattina dalle 9 alle 13 sempre in Viale Crasnodar. Crediamo che questo sia un servizio importante, tanta gente si sta rivolgendo alle nostre farmacie, è completamente gratuito perché comunque sia è uno screening regionale, quindi crediamo che tutti quelli che hanno diritto, tutte le categorie che hanno diritto di farlo, possono tranquillamente andare sul nostro sito e prenotare il giorno che gli è più comodo per eseguirlo in tutta sicurezza in quanto come azienda abbiamo anche assunto un'infermiere per l'esecuzione di questi test. E cambiamo adesso totalmente argomento perché è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della pesca e la tutela della fauna ittica nel Parco del Delta del Po, i dettagli nel servizio. È stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della pesca e la tutela della fauna ittica. Il via libera arriva dal comitato esecutivo del Parco con il successivo parere della comunità del Parco del Delta del Po, Emilia-Romagna, presieduto dal sindaco di Mesola Gianni Padovani. Si tratta, riporta un comunicato, di un provvedimento di ampio valore per il territorio del parco e per l'attività della pesca connesse, atteso fino dal 1999. Il regolamento va a disciplinare la pesca, sia sportiva che professionale, in tutte le acque interne del parco. La sua importanza è determinata dalla possibilità di applicazione di un nuovo strumento di gestione dinamico della pesca e di tutte le attività agli eutiche connesse, improntato sia alla salvaguardia degli stock ittici, sia alla valorizzazione della pesca in tutte le sue forme. Questo regolamento disciplina le attività della pesca, sia in acque dolci che salmastre, ed avrà validità ad agoro, sino alle saline di Cervia, in estensione lungo la costa e all'interno. Invece andrà dalla costa fino agli specchi d'acqua dolce di Ostellato e Argenta. Per quanto riguarda le acque dolci, si riferisce a tutta la rete dei canali di bonifica, ma anche ai fiumi Po, Reno, Lamone e alle valli interne d'acqua dolce. Per le acque salmastre il regolamento interessa le aree parco comprendenti tutte le valli da pesca, valli di Comacchio, valle Bertuzzi, nonché le aree lagunari della Sacca, Digoro e Volano, sino a tutti gli specchi vallivi del Ravennate, comprese le Piallasse. Adesso il regolamento andrà presentato al competente servizio della Regione Emilia Romagna, per essere poi deliberato e diventare quindi operativo. Tutti coloro che ne fossero interessati lo potranno poi consultare sui siti del Parco del Delta della Regione Emilia Romagna, sui siti delle associazioni pescatorie sportive professionali, quindi nelle sedi dei servizi provinciali e territoriali Caccia e Pesca di Ferrara Ravenna e ovviamente in tutti i siti dei comuni del Parco del Delta. Insieme al regolamento saranno anche disponibili due carte tematiche in cui sono rappresentate le zone itiche omogenee, unitamente alle sei stazioni del Parco, in cui sarà possibile per tutti i pescatori orientarsi ed individuare, anche grazie alla scala cromatica, le aree di pesca e le regole applicate al territorio del Parco. Bene, questo era l'ultimo servizio, come abbiamo detto in apertura. Siamo in attesa, oltre che dei nuovi dati di oggi per capire come si sta muovendo l'epidemia e anche quali sono i parametri da tenere sotto controllo. Questi parametri servono anche per capire se è necessaria un'ulteriore stretta e quindi un passaggio per l'Emilia Romagna dalla zona gialla a quella arancione, però non c'è ancora, ripeto, nulla di ufficiale. È più probabile che ci sia una stretta, una nuova ordinanza del Presidente della Regione Bonaccini, soprattutto per evitare assembramenti durante il fine settimana, ma ovviamente le parti ora si stanno incontrando, quindi siamo in attesa di novità ufficiali. Le daremo quasi sicuramente nelle prossime edizioni del telegiornale. Vi ricordo di seguire telestense.it e i profili social per rimanere aggiornati su tutto quello che accade nel ferrarese. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.